E se provassimo a catapultarci fino al nostro pianeta? E se provassimo a catapultarci sulla luna al nostro... E se provassimo a catapultarci sulla luna? Ma sì, siamo già sulla luna! Caspita, che velocità! Nessun pony si trasporta da un tab... La gravità farà il suo dovere, così ci sca... Sì, così ci schianteremo pesantemente contro il suolo, così moriamo tutti felici e contenti! Che bella idea, singhi! Accidenti, Trini! Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui! Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui! Altrimenti non potrò andare a casa a mangiare le trofie al pesto! Mi diverto a fare queste scemate! Caspita, nessun pony riesce a catapultarsi così velocemente! Sì, però i barattoli con le penne dentro si catapultano velocemente per terra, quelli sì! Sì, però i barattoli con luna! Già, ria, 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 ria! Sì, però i barattoli con la loro barattoli! Sì, però i barattoli con il cuore! Sì, però i barattoli con la loro barattolo! Grazie a tutti.